Il video è avviato Noi sei stato lo sacco prima di quei lati Qua c'è il silenzio però eh? Mamma mia che pace La pace dei sensi Non è caotico Vento un bacio Qua puoi fare veramente meditazione In teoria Venezia dovrebbe essere Ci mettiamo un fiore da qui Questo è comodissimo Questo video rimarrà Immortalato Immortalato Signori siamo tipo 50 metri Si Qua è un bello tuffone Mamma non sia mai Mamma A me ci fa pensare A me ci fa pensare No 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 Da qua non mi tufferei mai Troppo Sai che impatto con l'acqua Ho pure morito Guarda con la pancia Ho dei scicchiati morti E sempre con il capo a tagliare Hai capito? Andiamo pure con il capo a tagliare con le mani proprio Penso pure la capo a tagliare Però basta che diamo l'argomento Cambiamo l'argomento Nausea Tuffi Andiamo l'argomento volare Venezia si vede? Venezia dovrebbe essere Sì Lai in fondo però Sì Gesù lo si vede forse Questa è tutta allineando Sabbiamo qua Vuoi riprendere un poco tu? No Non mi serve veramente No Vuoi riprendere un poco a me Hai capito? Non perchè Guarda con questo vlog Si stai pieno di uno Passa così Guarda l'ombra nostra Guarda l'ombra nostra Quanti metri saranno secondo te? Ora saranno pure 70 secondo me Porca due Sì 70 Oh se ci sbagliamo completamente eh C'è pure 30 Eh? Poi non è solo 30 metri Non c'è 30 metri Sicuramente la fune Sarà di 150 metri Però noi siamo in diagonale Senti calcoli Ma 30 metri non sono Eh Porco due Guarda Che stai canto? Eh Comunque che stai filmando a lui eh? Eh Sto filmando la spiaggia Sto filmando la spiaggia Da qua in atto si sta veramente rilassati e tranquilli Un silenzio Però non fare queste cose qua Non fare questi Questi scricchioli Ah Noi abbiamo a vedere Ah vedi? Praticamente quella è una lingua Sì Questa è una penisola eh? Sì Questa è una penisola eh? Questa è così Questa è così Questa è così Ma che cozzanone è fatto questo dindorofiglio? Col figlio sì è vero Subito dopo la battuta dello yacht Eh Sono accadente Che dice Questa non è la felicità papà Due elicotteri Quella è la felicità Non sta cagata Sta cagata di yacht Perché io e te Eh Voleremo Eh Ti è venuto a me questa qua A me non mi è venuto a me Spero di averti ripreso bene Come si faccia così Mighietto No no Secondo me non puoi cadere Ah sì c'è stata cinta Sì Secondo me non puoi cadere Che spettacolo Eh No ma Venezia non si può vedere Ma però l'arredo forse esolo Forse qualche casetta magari Secondo me esolo Esolo potrebbe essere Beh Oh Oh Pero Dei Non Do Define Interims Un 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 dove sta quello scivolo c'è il nostro hotel ma questa sarebbe la pineta ci sta una zona che si chiama Lignano-Pineta però non forse sarà da là andiamo a scegliere wow 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 alcuni si non si guardano forse con il motoscavolo la non parlo 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 quando giocavo a calcio abbiamo fatto un torneo a Firenze con la squadra andammo in piscina e là c'era una piscina con un trampolino altissimo c'erano più altezza no? io mi sono trovato quello più alto 7 metri ma pazzo 10 metri non parlo non parlo mai più non parlo ma per me madonna si perché poi sono andato con le braccia dritte no? l'impatto con l'acqua che è successo? perché ci sono andato? e chi grida quello? no capito qualcosa forse non parlo forse qualcuno doveva scendere la scesa ma sono un secondo di là amor ah no una coppia è scesa non parlo è diede atto uccontतarti se di poparare Grazie a tutti Grazie a tutti